Giorni intensi per la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, al lavoro per definire la nuova giunta, che con molta probabilità sarà annunciata nei prossimi giorni. Le indiscrezioni danno per certo l'ingresso nell'esecutivo di Gianluca Di Giovanni, ex segretario di Etica, al quale sarebbero assegnate le deleghe inerenti le partecipate e l'ambiente. Vicino alla nomina sarebbe anche il capogruppo di Etica, Pietro Cerullo, che si dovrebbe occupare di lavori pubblici e sport. Terza delega per Valerio Longo, capogruppo forzista, dato per favorito alle politiche sociali. La prima cittadina terrebbe per sé altre due deleghe. Riconfermati, a meno di clamorose sorprese, gli assessori Stefania Vecchio e Maria Catarozzo. Gli altri due posti sono top secret.